Grande successo per il concerto di Antonello Venditti, che ha animato la sera di sabato a Ripunti in occasione dei festeggiamenti in Onorei Santerita. Una platea davvero veriegata e calcolabile intorno alle 25.000 unità ha salutato la performance del cantatore romano, che ha coinvolto nelle sue canzoni un pubblico entusiasta. Venditti ha da sempre raccontato la vita, quella che tanti hanno rivissuto nei testi storici della discografia del solista romano, che proprio la sua città ha dedicato tanti brani e tanti successi. Le canzoni si sono succedute in un crescento di emozioni che si leggevano sui volti degli uomini e delle donne che hanno partecipato all'evento. Il saluto e venditti alla sassa di uno dei suoi miti, Enrico Berlinguer, secondo noi è un discreto ma sincero omaggio alla nostra isola. Non siamo dei critici musicali, ma riteniamo il potere affermare che tenere un palco con la maestria di venditti non sia cosa facile e qualche ora essere inità e allegrie donati con la forza della musica sia cosa davvero importante. È utile ricordare il grande impegno del comitato organizzatore, che anche quest'anno ha regalato ai sassaresi uno spettacolo di spessore con un grande artista.